Mi sono appostato ieri pomeriggio intorno alle 16.30 fuori della chiesa e dopo averlo osservato attraverso la telecamera introdursi nella chiesa ho seguito tutti i suoi movimenti, ho allertato la centrale operativa dei Carabinieri al 112 e grazie al loro pronto intervento sono riusciti a coglierlo in fragrante sul fatto. Oggi a congratularsi con Don Marco Scaggiante anche il neoprefetto Michele Di Bari con il comandante provinciale dei Carabinieri generale Nicola Conforti. Don Marco più che esasperato dei continui saccheggi ha fatto arrestare dai Carabinieri il ladro delle offerte, il fatto ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Rita da Cascia in via Bellini laterale di via Miranese a Mestre. Cosa ha detto il ladro quando è stato colto sul fatto e quando ha visto arrivare i Carabinieri? Sì niente è stato sorpreso dalla situazione ovviamente inaspettata però non ha detto praticamente niente, ha soltanto negato di essere stato lui a fare questi furti ma ben presto i Carabinieri perquisendolo hanno ritrovato anche la modalità con cui agiva in chiesa. Il ladro un 65 anni senza fissa dimora di nazionalità croata è ora in attesa della direttissima. Il parroco lo scorso febbraio e così a gennaio e prima ancora dicembre grazie alle telecamere posizionate all'interno della casa di Dio lo aveva già sorpreso e immortalato proprio mentre rubava le cassette dell'offerte. Conosciuto già le forze dell'ordine da quanto sono riuscito a capire. Don Marco non è nuovo ad episodi di questo tipo già in passato aveva pure pedinato e addirittura inseguito i ladri ieri è riuscito a farne arrestare uno ma non si dice per questo contento sta infatti valutando se far chiudere le porte della chiesa quando non c'è messa. La decisione adesso la fiderò un po' anche al consiglio pastorale, le persone che collaborano con me per capire se poi avrà senso ancora tenere la chiesa aperta quando normalmente molti fedeli non vanno neanche più in chiesa.